Xbox One X è il nuovo arrivato della famiglia Xbox e sarà disponibile dal prossimo 7 novembre. Originariamente conosciuto come Project Scorpio, il concept lascia definitivamente il posto ad una console che sul palco losangelino dell'E3 2017 ha palesato una potenza tecnologica senza pari, frutto di un livello di ingegnerizzazione spettacolare. Xbox One X non è solo la macchina da gioco più potente mai concepita, con i suoi 6 Teraflops, 12 GB di RAM GDDR5 e il lettore Blu-ray Ultra HD, ma gode anche di dimensioni più contenute rispetto a Xbox One S. La potenza spettacolare dei 4K si ammirerà grazie a esclusive come Forza Motorsport 7, Sea of Thieves, State of Decay 2 o Crackdown 3, ma anche in un'infinità di altri titoli multipiattaforma che godranno delle performance superiori della nuova macchina. Anche i vecchi giochi godranno di patch migliorative, inoltre i possessori di schermi Full HD beneficeranno comunque di migliorie grafiche e di pulizia dell'immagine tramite la tecnica del super sampling. Microsoft lascerà liberi gli sviluppatori di sfruttare come meglio credono le caratteristiche uniche di Xbox One X, che ricordiamo è compatibile con tutti i giochi e le periferiche della famiglia Xbox One. Xbox One X insieme a Xbox One S completa dunque l'offerta videoludica per i fan Microsoft, creando un ecosistema unico adatto alle diverse esigenze dei videogiocatori.